Ma grazie, qui c'è di 80 pompa C'è qualcuno C'è qualcuno, guardate Entriamo, entriamo, entriamo Chiudete, chiudete Portatemi il telefono, dobbiamo chiamarlo a quel sito Dovete stare 24 ore sul balcone Non sto scherzando Abbiamo visto lo sconosciuto Ma ragazze Ma ragazze veramente c'è qualcuno Andiamo a un ladro Chi sta? Ascoltiamoci qua, venite qua su Ma non è un ladro Dici che è un ladro? C'è ragazze molto attento Chiamiamo la polizia Ma come chiamare la polizia? Perché guarda, non è andrato in casa nostra Non ci ha fatto niente male Non ha rubato niente Non possiamo chiamare la polizia Eh, non la possiamo chiamare Sì, ne faremo qualcosa Allora, io propongo così Ci diamo prima una calmata ragazze Non vi spaventate Tutto a posto Vedrai che sarà tutto bene Andiamo a controllare Vediamo se c'è Ma io ho paura No, non ti preoccupare Tranquilla Sei con me Sei con me Sei con la mamma Tranquilla Andiamo Ma dov'è papà? Eh, papà non sai chi è uscito fuori Due giorni non è stata a casa È andato a lavoro Allora, facciamo così Andiamo a piano Allora, facciamo così Forse è stato Dobbiamo fare silenzio Dobbiamo fare silenzio Ok Qua non c'è niente Non c'è niente Allora, facciamo così Io adesso devo aprire la porta E non mi sentirei nessuna mosca Allora, voi zitti come una mosca Zitto E andrò a guardare se c'è qualcuno Non vi preoccupate State lì State lì Sì Ragazzi, qui c'è niente Quanta paura C'è qualcuno C'è qualcuno Guardate Andriamo, andriamo Andriamo Chiudi, chiudi Chiudi la porta Chiudi, chiudi 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 Avete visto Avete visto Chiudi, chiudi Chiudi Ragazzi Ragazzi C'è una fermata Ci diamo a dare una fermata Ho un'idea Ho un piano Allora Che diamo Allora, ascoltatemi bene Vi propongo di fare una cosa Anche voi, cuoricini Ascoltate bene Quello che voglio fare Che cosa Ascoltatemi Ascoltatemi Propongo una cosa Di fare le trappole E di prendere questo l'altro E dopo Di chiamare la polizia E noi Alla fine Saremo tre e un Cos'è venite? Sì Tre e un Ci state? Sì Ci state dentro? Dai Dai Cosa? Con le bolle Possiamo fare buona cosa Un'altra cosa Sì, sì Con le bolle Anche io ho pensato una cosa Questa vorrei avversiare In questa Abbiamo un coach Per Prendere una trappola Sì Per fare una scotch Possiamo mettere lì Vabbè Allora Dobbete guardare Dei cuoricini Quelli che faremo E un'altra cosa In questa situazione Voi cosa farete? Scrivete giù le commenti Dateci Un'idea Aiutateci Aiutateci Allora Vi dico una cosa Dai Venite qua Venite qua Andiamo 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 La forbice Allora Vanessa Prende lo scotch Andiamo 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 Vanessa Non Adesso Vanessa E' Ricattarlo Questo Se lo vede E' molto Molto Difficile È Molto Strasparente Molto Ok ho un'altra idea ragazzi è veramente pazzesca dobbiamo riscaldare la maniglia vediamo se è qua quando lui toccherà la maniglia si bruciera la mano ragazzi ce la faremo a prendere questo blado adesso mi scivola è qua Sì, 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 sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti